benvenuti allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 3 del libro shake valido fino al 26 marzo 2019 album importantissimo perché festeggiamo i 60 anni del marchio quindi super promozioni intanto vedete tante offerte promozioni set in edizione limitata e anche il packaging in edizione limitata ma è davvero bellissimo e da avere poi troviamo le promozioni con i prodotti scontati fino al 40% sui best della linea per il viso per il corpo e poi ci sono le promozioni sui saponi per le mani il balsamo labbra davvero tantissime offerte anche il make up scontato a 40 poi vi consiglio di sfogliare comunque il catalogo che troverete perché si parla dei progetti degli obiettivi che si sono posti quelli che hanno realizzato quindi davvero un album interessante ma iniziamo a sfogliare perché è un album davvero ricco ok allora album numero 3 valido fino al 26 marzo 2019 quindi 60 anni di brochet eccoli qui con la storia dal 59 poi i primi i progetti il sommario e iniziamo a vedere intanto qua i primi che sono il pack in edizione limitata quindi la crema mani che è bellissimo questo pack oppure quella ed è alla camomilla eccoci qua se no il set che comprende a 12,95 la crema mani idratante il struccante rapido occhi che è quello bifasico fantastico e la crema dolcezza viso e corpo eccoli qua ed è davvero un set interessante vediamo ora intanto gli impegni dei progetti eccolo qua il best scontato dei 40 per i trattamenti viso e il trattamento rimpolpante giorno ed è a 11,95 euro ed è davvero una bellissima promozione altro best è l'esercizio jeunesse 14,95 anti rug benefica giorno della Irish Creme è sempre 40 quindi 14,95 e poi la reed lifting questa fantastica 14,95 sempre scontata fino a tra del 40% veniamo ora ai trattamenti corpo eccoli qui sempre con gli impegni ed è il best è questo l'anticellulite che è 10,75 perché è scontato del 40% ed è davvero un ottimo prezzo oppure ed è l'esercizio globale cioè l'esercizio globale a 11,95 e anche questa è un'ottima promozione il gommaggio il mitico gommaggio a 5,95 il gommaggio che penso che tutti abbiamo provato a meno una volta ed è davvero fantastico veniamo ora al make up sempre con gli impegni e questi sono stati rispettati sconto del 40 sulle mascara questo il volume vertige quindi 9,95 scontato del 40% anche il correttore quello in stick sia quello colorato quindi 5,95 sia quello classico scontati al 40% sono davvero fantastici veniamo ora alle promozioni questa è la promozione per il corpo quindi sono le creme mani 2x6,95 si può scegliere tranquillamente tra tutte le profumazioni quindi queste tutte quante il primo col codice nero e il secondo col codice rosso e anche la promozione di bassa molabbra 2x3 euro stessa cosa sempre il primo col codice nero e il secondo col codice rosso e questo era tutto l'album ora eccoci abbiamo aspetto tutto il catalogo come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box ci sono i miei contatti per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con i Maggi Naturali Mondo di Broché